Oggi abbiamo presentato l'osservatorio sulla componentistica automotive per l'anno 2022. Sono dati molto interessanti che iniziano a spiegare quello che sta capitando nel settore della mobilità e dell'automotive in particolare che vale oltre 56.000 addetti in Piemonte e 19 miliardi di fatturato. Quindi un settore che è in una grande trasformazione su cui i grandi trend geopolitici e internazionali stanno influendo tantissimo. Oltre a quello del cambiamento tecnologico e della transizione energetica.